Una lettera aperta è stata scritta dall'Ordine regionale degli ingegneri al presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Una lettera aperta resa nota durante una conferenza stampa che si è svolta questa mattina all'Aquila alla presenza di Armando Zambrano, presidente nazionale dell'Ordine degli ingegneri. La riflessione che stiamo ponendo al nostro governatore regionale oramai da settembre dell'anno passato perché lui sta puntualmente disattendendo quella che è la dignità dell'uomo, in questo caso del sistema professionale dell'Abruzzo. Continua con delle comunicazioni indirizzate a amministratori locali chiedendo sacrifici, ma sacrifici a chi? Solo al sistema professionale. Mettendo a budget importi per la progettazione che neanche le fotocopie riusciremo a fare e quindi c'è un rispetto della dignità dell'uomo prima che dei professionisti. Il problema che viene denunciato è il mancato pagamento delle spettanze sui progetti. A noi qualche dubbio soggiunge, a me qualche dubbio soggiunge perché parlo come presidente dell'Ordine degli ingegneri di Teramo in questo momento. Forse il nostro governatore non è abituato a pagare i progetti, forse il nostro governatore non è abituato a pagare le prestazioni. Beh noi non ci stiamo a queste condizioni perché dietro questo ridicolo importo poi possono innescarsi altri meccanismi. Ingegnere Marcozzi vuole fare il progetto poi troveremo il modo per fare dell'altro. Noi a queste condizioni non ci stiamo. L'Ordine chiede il taglio degli stipendi ai dirigenti regionali e ai trombati della politica. L'Ordine annuncia anche un ricorso al TAR contro questo modo di fare del presidente D'Alfonso. Il sistema professionale è disposto a fare sacrifici ma quando è un sacrificio condiviso tra i diversi attori sociali in regione e quindi taglio degli stipendi ai consiglieri comunali, ai consiglieri regionali, agli assessori regionali, ai trombati della politica che vengono rinseriti nelle partecipate o carrozzoni regionali, ai mega stipendiati dirigenti regionali. Ma perché i collaudi che verranno dati ai dirigenti comunali e ai dirigenti regionali devono essere pagati in toto mentre l'incarico professionale per fare attività viene pagata con un misero 3%? Sono tutte risposte che il governatore ci deve dare.